Grazioni prossime alla partenza. Favorito in questo momento è Fesberois, che al debutto del primo maggio ha ottenuto un quarto posto. Ci siamo, tutto pronto, parti! Cavalli della quarta corsa del pomeriggio. Vediamo subito le prime mosse, parte veloce Kingdom che si porta a condurre pur senza particolari motivazioni, tant'è che dopo poche centinaia di metri lascia strada al favorito Fesberois per Massimiliano Narduzzi. In terza posizione troviamo la figura di Farah D'Agobio a precedere Funtana Ona, poi fuori legge con la giubba rossa e bianca ed ancora a chiudere il gruppo Farah Hcm e Fly Desert, i due di scuderia. Cavalli che superano il vecchio rudere in questo ordine, si sono create tre pariglie, in particolare davanti c'è sempre Fesberois con la giubba azzurra e la croce di Lorena Rossa. In seconda posizione scorge la figura di Farah D'Agobio a precedere con la giubba rossa e bianca fuori legge. In quarta posizione lungo la corda c'è Kingdom a precedere Funtana Ona. E poi i due di scuderia che sono nell'ordine Fly Desert e Farah Hcm che scivola in coda. Cavalli che sono adesso a metà curva, non ci sono state variazioni di sorta, sempre il favorito Fesberois che guida la compagnia tirando un pochino, mostrando anche qualche insofferenza nelle mani del suo interprete. La seconda posizione per Farah D'Agobio che adesso tende a prevalere. Cavalli entrano in dirittura con questo ordine ma senza forzare particolarmente la mano. Adesso ci sarà prevedibilmente uno strappo, cosa che avviene dopo 100 metri dall'ingresso in dirittura. Di dentro c'è ancora Fesberois, Farah D'Agobio che non gli concede respiro. Percorsi esterni con la giubba bianca e verde si avvicina Funtana Ona. Tre cavalli, qualche problema di traffico per fuori legge. Anche Kingdom della partita, gli altri due che sono più staccati. Quando siamo a 300 metri dal traguardo Fesberois riparte sotto la spinta costante di Funtana Ona. Fesberois contro Funtana Ona. Fesberois che riparte ancora nel tratto conclusivo controlla il ritorno di Funtana Ona e per il terzo posto Kingdom. Al secondo tentativo si toglie la qualifica di Maiden. Fesberois, figlio di Nizam che dopo il quarto posto ottenuto al debutto il primo maggio, oggi ottiene subito una vittoria. Germano Marcello in sella per il training di Massimiliano Narduzzi. I colori della scuderia Clodia di Capparella. Tre al primo posto, cinque Funtana Ona al secondo, sette Kingdom al terzo. Tre, cinque, sette è un'idea di arrivo. Quindi vediamo le battute conclusive. Vince Fesberois, 2,50 la sua quota conclusiva per il vincente. Da Capannelle per la quarta è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.